E ben ritrovati su Cucina con D. Questo è il settimo episodio di Ghost of Tsushima. Prima di iniziare la missione, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale Twitch e YouTube. I link li trovate ovviamente nell'info box. Intanto ci troviamo nel Tempio Dorato e stiamo per andare a parlare con Lady Masako, ma andiamo al gioco. Quella! Eccomi qua. Dica! E dai, ma parecchio. Che gentile E gli faremo il mazzo a tarallo Dai a Sadako Dai, andiamo, andiamo, andiamo Non ce le ho le armi Sì Ah, lei vive ancora nel rancore Abbastanza Che poi sembra vecchia Ma in realtà Secondo i canoni dell'epoca Potrebbe già anche avere Tra i 50 e i 60 anni, eh Se non meno Perché comunque Stiamo parlando del 1200 Vediamo un po' dov'è Dove può essere, vediamo Ok Andiamo in quella superiore Che nel caso Però anche così Oh, qua c'è un tempio Forse ho visto qualcosa No Ho sconfinato Quindi Ciu È laggiù Ok Sono andato troppo in là Cerchiamo un po' Dove può essere Sto fettente Di un fratello Che sia quello? Andiamo piano, va Ok Ok Quindi passiamo da sopra Ma Ma io qua ci sono già stato No, sono cose nuove Quindi c'è un nuovo tempio Qui in realtà Ma pure infame sei Povero cavallo Ah No No, non sembra ci abbia visto Hello No, non ci ha visto Però Sai Meglio non rischiare Dove è andato Allora andiamo via Allora andiamo Allora andiamo Allora andiamo Veloci 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 Ehm, non c'è nessuno, ma non c'è nessuno. Eccolo la, forse. Forse quello il... Ah, sicuramente... Certo che parlano molto sti banditi, eh? Chiacchieroni. Eccole. Mettiamo il fiore. Ce ne sono tre, quattro, cinque, sei... Più altra gente di là. Uno là sopra. Ho capito che i banditi stanno scappando, però... In una casa di Hikori, ci sono i banditi. È il mio amore di Sadao. Che ci sono dentro. Non lo so. Che, non lo so. È proprio che vedo. Prima di tutto si fanno fuori gli arcieri. Ok, evo anche voi, io salutiamo. Ok, evo anche voi, io salutiamo. Ok, dove stanno gli altri? Maledetto! No, non volevo fargli il colpo della vacca boia. Ok. Oh, scusami. Nella fogo picchiata anche lei, vediamo un po'. Non mi sapevo. Non mi sapevo. Non mi sapevo. Te non sei niente. Qua, scipepolare, non c'è nulla. Mi sarebbe piaciuto fare il confronto per prendermi un po' di determinazione, ma vabbè. Cerchiamo un po' qua, se c'è qualcosa di interessante. profiste. Ah sì, ho anche potenziato alcune cosette. non è imprendiscibile. Non è imprendiscibile. Imprensciindibile. che poi... Ciao, Ina. Parla. Ah... Pio o meno, piovo un po' d'acqua intanto Parla e forse non ti facciamo del male Ok Confronto Facciamo un po' di esercizio Ma questi sono quelli cazzuti, porca miseria Ok Aia, posso far male Aia Ah Pensavo Ok Vi ho massacreto Oh, c'è la missione, faccio la missione Ma essendo un open world Uh Ok, mi hanno visto, però siamo a lontano E provo a prenderli da dietro Ma dove stanno, no, ho capito Ma c'è un forte È un fortino, quello Che cos'è? Ah Ah, no, sono qua Mi ci confronto Schifido la terra Venite qua Mi fai la finta Mi fai? Nessun altro? Ok E tu? Ah, no, ho una freccia sola Non la spreco Ok L'ho fatto solo per prendere un po' di determinazione E un po' di vita Ah, che siete degli schifosi, cazzo Guarda qua Ah, porca miseria Non ho un ottimo orientamento E ho anche una pessima memoria Beh Qui Oh, beh, dai Vediamo di Quello grosso, fantastico E l'arciere Fantastico E no, caro arciere E l'arciere Un punto tecnica Ma te Masako Non c'hai nulla C'è un paio di frecce Un paio di armi Da regalare Dove stai, zia, te? Eccola Voi là Un ginocchio anche, eh Sono cavaliero Mente Aspetta qui che vado Che pensi mi Hina-chan Dobbiamo fare due chiacchiere Eh, Sakai-sama Parla Aspetta qui Masako Qu'è? Ah Sì, prima è la scoperta. E' l'esercizio? Posso pensare. Non lo so. Sadao è morto. Allora, torniamo. sono belle le stanze del tatami eh un attimo fammi uscire sto guardando la sala del tatami camminiamo no poverine e poi fare il mazzo a tarallo beh se vuoi ti suono io il flauto sono io ok sogniamo quella delle sole leo io doi tessi mesta non vorrei che sia il marito che sia tornato ecco non puoi essere troppo lontano non vorrei che si sia nascosto ancora di qua oppure sul tetto ah no ci sono le tracce ok no aspetta dio quanto sono pessimo a vedere le tracce ha girato di qui ok 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 Questa è una palla. Questo cimitero ci sono già stato? Non lo so Potrebbe esserci un grillo Vediamo se troviamo un Beppe Ah ah come sono simpatico Chiamiamo però il cavallo Ci prendiamo un manufatto e poi andiamo Dove sta il cavallo? No butti sento ma non ti vedo Ah eccoti lì Sì ma dovresti venire vicino a me però bestia Oh lì c'è un carretto Chi è? Chi è? Ma perché non li vedo? Uffa Chi è? Ok, io voglio lanciare! Samurai! Io intanto spippolo e prendo... Ciao! Stai dicendo spippolo e uccido, è fantastico! Ah, c'è qualcuno! E ci confrontiamo! Ha pure un arciere, eh! Oh, mi avete ascoltato, grazie! Ah, ho sbagliato! Quanto sono fesso! Ok! Nooo, sono morto come un cretino! Sono morto come un cretino perché ho sbagliato all'inizio! Ho sbagliato quello! Eh, mi merito la morte! Mi merito la morte! Vabbè, mi hanno fregato con il... con la finta! Cioè dai, ma si può essere... Che sfigato che sono, ragazzi! Scusami, Jin! Scusami, Jin! Ah, vabbè! Mi rivendico adesso! Ah, contro il pezzo grosso! Ok! Chi altro viene? Oh! Ah! È più vero! Eh, non è... Ah, non è il campo profughi questo! È un... È un accampamento! Non voglio prendermi da dietro, eh, fettentone. Già morti? E che re? Mi fa strano che... Uccellino dorato. Ah, ok, mi porta al campo profughi. Mi fa strano che ci sia il campo profughi proprio attaccato al... No, cacciatore, fammi comprare le frecce, guarda, sono veramente triste. No, non c'è più di questo. Ok, come se ti posso vendere? Non c'è niente da vendere d'intere. Mmm, mi le compra uno, ma... Mamma mia, cosa stiamo parlando? No, vabbè. Potenziare... No, servono tutte le pelli, eh. Non ne ho. C'è la pergamena. Ah, Tokus, perché in qualche modo tu riesco a trovare questo messaggio? Dopo l'arrivo dei mongoli era tutto così confuso, ho sentito la tua presa sul polso e poi niente più. Ho cercato in lungo e in largo ma non c'eri da nessuna parte, credo che tu sia in salvo e che riuscirò a vederti nuovamente. Nostro padre ci sta portando nella fattoria di Kuta per cercare un modo sicuro per lasciare Tsushima. Se leggi questo messaggio, raggiungici il prima possibile. Vabbè, parliamo già con Lady, no con Lady, scusatemi, con il capo... Ah... Sì, tifedenti. Il faro di Ariake. Beh, e li facciamo fuori. Masako-san, andiamo? Spendo un po' l'aria perché comincia a far freddino. Il faro di Ariake, non vorrei che sia quello che io abbia già conquistato? No, ho preso quello di Tsutsu io, che è dall'altra parte, la parte occidentale dell'isola. Vediamo dove sta. Ah, è questo? No, no... E sa che forse ci sono già stato? Eh, mi sa... Mi sa che forse lo ci ha preso come... Come cosa... Ma vabbè, pazienza. Andiamo. Allora. 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 Guarda, 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 guarda! Via gli arcieri! Dov' sta? Dov' sta? Ahia! Ahia! Eh no, se fai l'infame... Io ti faccio il mazzo, ragazzo, eh? Dov' sta? Dov' sta? Dov' sta! Dov' sta! Dov' sta! Dai, attaccami! Ok... Attaccami che ti faccio lo scherzetto! No? Vabbè, l'arte arriva di velocità! Dov' sta! 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 D' ... Vabbè... Ma... ... ... ... ... ... ... ... ... Cosa che vuoi fare l'argomento di un'altra volta? Non ci sono stato un'altra cosa che non avevo mai morto in Pugoda. E' stato un'altra cosa che non avevo mai morto, ma che non avevo mai morto. Cosa che non avevo mai morto? Ora si rappresenta luchizzone di Sadao, uffa! Ora si sta a chiedere, il di Sadao, i chiedere che i'm a chiedere. E' un po' di sede. 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 Ok, lei si troverà alla fattoria Kaneda. Ok. Eh sì, no. Eh eh eh. Volpina, fammi seccare prima questi. Sono tanti. Ma vi ammazzo tutte, no. C'è un altro? Eh, pure a te. Arcieri? No. Chi viene? Tu? Aia. Volp, aiutami. Aia. E' questa? Eh sì, aia. Mi fregano sempre i colpi blu. Allora, andiamo dalla volpe. Eh, piiii. Ecco, ti ciccina. Andiamo, Topolina. Sì, sì, sì. Bellissima lei. Andiamo. Ah, questa dà. Ok, scusami, mi dicevi, Topolina? Sì, non ti incazzare. Intanto mi si cura automaticamente, un pochettino, quando sono fuori dal combattimento. Qual è, forse il, ehm, il talismano migliore che ci sia. La rigenerazione. Aia. Soprattutto perché cado come un pirla. Eccoti qua. Hello. Kitsune. Dovete sapere che io vado spesso... Dinari. Vado spesso in Giappone per il capodanno. Ce sono già stato due volte, vado a casa della fidanzata, della sua famiglia. E il 6 di gennaio... No, il 4 e il 5 di gennaio, loro per tradizione, cioè non loro, loro, cioè tutti per tradizione, vanno... Dove stavo andando io qua? Sì. Vanno da... Un chilometro e mezzo, è bello lontano. Vanno in questo Inari, molto famoso nella zona, però si trova a Gunma, nel Gunma Ken, a portare il dono alle volpi. Ah, ma quanta gente che c'è. Dai. Almeno mi esercito un po'. C'è. Non mi esercito un po' di più. Saaa, muori. E muori pure tu. Là vedo un arciere. No, un lancere. Infilzata allegramente. Ah, eccoci. Bene. Ci penso io Ma animali feroci? Niente Vuole un po' di pelli Miseriaccia Eccole qua Perché ce ne sono ancora Aia Nabu però vieni qua Quando scappi Fetentone Guarda come sei pavido Mamma mia Sei pavido Come lo schifo Qui c'è qualcosa Ma non me lo fa prendere Da Quell'ero errante Che intimidisce Gli spiriti maligni Vediamo un po' Che figo Ma è figherrimo Il ponte Vabbè liberiamo anche qua Liberiamo il ponte Ma alcune cose mi sembra di averle già fatte Non capisco come mai E poi Due arcieri fatti La ne vedo un terzo Vabbè Vabbè Erano quelli un po' Cretinetti Come Come nemici Niente di Niente di Erano quelli pippa Chi è che fa rumore Là c'è qualcuno Oh No Creti Creti Sì, sono morto, eh? Sì, è morto! Sì, è morto! Vai, corri, corri, corri! Aia! Spifoliamo! Credo che sei fesso, ragazzo mio! Che qua! Andiamo! Nabu? Ancora? Dove? Non li vedo, vado piano! Ah, ecco lì! Quello spadone qua! E poi? Chi vi è? Aia! No, devo far fuori questo che sta rompendo un po' le balle! Ah, ok! Ah! 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 Questa è un forte Porca miseria Però c'è qualcosa lì Eh infatti Perché qualcosa c'è qualcuno Sono Le avversioni pezzente però va bene Quelli di prima mi hanno un po' sconcertato Erano belli forti Erano molto molto forti Erano belli forti Erano belli forti Erano belli forti Tu ma hai rotto un po' le balle, eh? Sono spaventato? Quindi vi saluto e ci vediamo a una prossima live per l'episodio numero 8.